Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qua, aspettando che parte sto lavoro, mezzo giorno abbiamo quattro persone. Quindi, movimento vedo che c'è, speriamo che entra qualcuno a mangiare. Vedete che bello il mare oggi, in questo pezzetto. Bellissimo, questo pezzetto di spiaggia è bellissimo, bella limpida. Siamo pieni di turisti, ve lo posso assicurare questo, ma veramente. E come pare saremo in base dai spagnoli, le pensionate, i pensionati. Dice che gli regalano i pacchetti al governo, vediamo se è vero, se non è vero, se sarà, ve lo dirò. Questo l'apri 10. Ok ragazzi, questa spiaggetta oggi è piena ragazzi, è piena di gente. Saliamo su. Si fanno il bagnetto, si prendono il sole, si divertono. Che dobbiamo fare? Questo mi sta bloccando davanti. Vediamo qua. Facciamoci tutto il passeo marittimo, vediamo che passa. Ho finito adesso di lavorare, vado a farmi una doccetta e torno più tardi al lavoro. Vado, vi dico che il paese è pieno, ma veramente, veramente. Guardate quanta gente c'è lì in fondo al mare. Ah, ecco lì qua. Ha voglia di gente che c'è al mare oggi ragazzi, fa un caldo della madonna, veramente caldo e quindi la gente va al mare, naturalmente. Che teniamo a chi? Divertitevi, divertitevi, approfittatevi di questo sole che c'è in queste canarie e via. Saliamo su, in centro. C'è anche gente qua sul passeo, sulla caglia principale, scusate. Quindi, ce n'è di gente. Va bene ragazzi, adesso vado a casa e monto il video, ve lo mando. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. A domani ragazzi. Ci vediamo con un video domani, ciao chicos.